L'attuga. Come d'abitudine la signora Clara portò il suo bambino al giardino pubblico, in riva al fiume. Il bambino non era un bel bambino, anzi si poteva dire misero, magrolino, stento, scialpe, pallissimo. Anzi si poteva dire verde, tanto che i suoi compagni di giochi per calzonalbo lo chiamavano lattuga. Ma di solito i bambini pallidi hanno per conferso due occhi grandi e neri, che spiccano sulla faccia esangue e le danno un'espressione patetica. Piccolo Dolph invece no, aveva due occhi piccoli e insignificanti che guardavano di qua e di là senza alcuna caratteristica personale.